E si chiama Meno Carta e Più Sicurezza ed è un concorso destinato ai comportamenti virtuosi delle aziende. Il fatto di rispetto delle norme di sicurezza è stato presentato questa mattina dall'Inail, dal Politecnico e dall'Università di Torino. Vediamo. Noi abbiamo con una provocazione, appunto con un concorso che abbiamo voluto intitolare Meno Carta e Più Sicurezza, abbiamo voluto lanciare un confronto tra le buone prassi e quindi siamo convinti che attraverso questa formula ci sarà la possibilità di avviare un dibattito e di diffondere alle aziende, anche quelle più piccole e meno strutturate, magari delle buone idee per garantire la tutela e la salute dei lavoratori e poi di chi effettivamente tutti i giorni ha contatto con i pericoli. Antonio Traficante, presidente dell'Inail Piemonte, commenta così l'avvio del concorso Meno Carta più Sicurezza, nato da un'idea dell'Associazione Italiana Imprese e Esperte Sicurezza, è creato in collaborazione con il Politecnico e il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'Università di Torino. Il concorso premia quelle aziende che hanno realizzato soluzioni tecniche innovative, capace di far rispettare le norme, diffondendo nel contempo anche una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro. I dati infatti parlano chiaro, l'Italia in fatto di infortuni sul lavoro non è ancora un paese virtuoso. Aumentano gli investimenti, nel 2011 in Piemonte sono stati 35 milioni, ma gli infortuni, seppur in calo, registrano numeri di rilievo in tutta Italia. Abbiamo una riduzione del 6,6% degli infortuni complessivi, aumentano però le malattie professionali, ma questo non è neanche un fenomeno negativo perché significa che stanno emergendo. Complessivamente il quadro è sempre delicato perché per noi basta che ci sia un solo infortunio non va bene. Gli infortuni in Italia sono comunque troppi, superiamo i 700 mila infortuni all'anno, siamo nell'ordine di diverse centinaia di morti all'anno sul lavoro, quindi è un problema sociale enorme. Dati da leggere nel contesto perché sempre meno persone sono occupate e sono sempre di più le ore di cassa integrazione, numeri che certo incidono sul ribasso delle percentuali di informazioni.